Salta, salta, salta! No, un'azienda che, oltre a fare questo, fa anche consulenza di coppia. Cercavano consulenti anche per quello. Eh beh, un consulente di coppia, chi non meglio di loro? Chi non meglio di loro come consulente di coppia? Però, come tutti questi lavori, tu ti devi dare una ripulita. Non è che puoi dare così, fatti la barba. Intanto c'è tutto online. No, 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 i consulenti di coppia vanno proprio in casa. 70 euro costa la consulenza. Un'oretta a 60 euro. Cosa succede? Ma cosa... Io prima ho fatto così. Però ti è mancato il culo. Scusate. Concentrati, pensa dopo una coppia. Una consulenza di coppia. Ma scusate, non l'ho capito, ma tu vuoi arrivare a fare il consulente di coppia? No, 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 no. Perché all'inizio pensavo solo ad andare in giro a vendere i tenga. Ah, micchia, commercializzare. Sei bussi alla casa libera. No, non è che bussi, perché loro... Non ci credo! Madonna mia! Madonna! Ma quanto sei... sei un ninetto! Cioè, non sei ing... cosa fai? Ma perché? Ma non so cosa stai facendo. Ha saltato tre volte a Muzzo in mezzo alle api. È un gatto fuori dalla porta, ciao! Tengo un po' qua, va. Sì, ma comunque è veramente... Ma perché mi viene da saltare lì, non so perché. Sei un pezzo di coglione. Non mi mettere le mani lì ad Albis! Mi mette le mani del gatto. Guarda che gratta la barba di Locke. No, 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 per favore, per favore. Per favore, per favore. Qua ci vorrebbe proprio una gomitattina, basta quella. Eh, lo so. Però non voglio rivedere lo suo livello. Non è male il suo livello. È bello. È divertente, però da vedere non lo so. Occhio, per favore. Per favore. Per favore. Ma ce ma mi fa ridere che è stato il mcchiano, Oh, ma che è miliciano. Vuolemême! Aspetta occhio con il castoro. Sia! Ma stiamo pagato agli occhi de... Ma, pensa quando sei morto. Cioè non pensa quando sei morto. Pensa, pensa quante cazzate hai fatto. Oh, hai vinto il livello, bravo. Le cazzate di Locke. Non entra annualmente. Stavo dicendo qualcosa, mi sono dimenticato adesso, perché, Salvo Locke. Luca, son sudata. No! Quanto cazzate hai fatto? Hai vinto il livello, ma quante cazzate hai fatto? HA will бывle! È alternato ma buissimo, non buio. tranne gli oggetti perché si vedono palesemente stai calmo ricorda ricorda devi andare a memoria quando è luce devi vedere però questi sono i pro tip di Adalbis quando c'è la luce vedi e quando è buio non vedi che passardi guarda che è troppo uguale è una figa la musica un po' elettro ferma no lì lo fai se sai di averne due perché appena lo prendi ti blocca e va lo sappiamo lì ce ne abbiamo due forse come fai a vederlo? ma con il buio si ferma quando c'è la luce che bello sei vai vai te lo ricordi questo lo facciamo vai vai minchia che ansia sto gioco oh però ogni livello è sempre una cosa nuova incredibile ma incredibile Donkey Kong Donkey Kong mamma mia ma come cazzo? ma porca puttana aspetta aspetta abbiamo una vita sola ma non devi caricare siamo disonestati allora aspetta qua è buio disonestamelo comunque se salvi onestamente e carichi onestamente ti da 5 vita ecco perché aveva 5 eh sì esatto che ne va a buzzeo ma salta non è che devi dire a buio a duken eh sì ma io sto facendo commenta e mi muovo solo quando c'è il buio perché memorizzi quando c'è la luce eh sì è meglio quella è una delle cose che ti viene spontanea da fare non ci posso credere sei un piccio comunque no sono ad albis occhio salta 1, 2 e 2 ma fate che rotolarizzi e ti fotti tutto ti fotti tutto anche tua mamma aspetta vai ce l'avevo eh vabbè ma un attimo occhio ferma ma senza paura fuori ad albis got combos eh vabbè ne aveva 3 ha preso la banana in mezzo e basta eh ma come fai eh come fai vediamo non vediamo non vediamo come fai no ma quanto è sudata non mi ricordavo ma quanto è sudata ma quanto è sudata ma è schifo veramente ma stati vicino mi viene da vomitare tenete 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 lasciate fame lasciate fare vabbè ci pensa lo che adesso stacca il cavo mentre gioca 3, 2, 1 e se lo stacco o rimetto ma se finiamo sto gioco prima o poi cosa gli dite rutta come vuoi che assia sto gioco però ma non si trovavamo così tanto a sto gioco no perché qua sappiamo che io dobbiamo fare il video te sbattevi come al solito di questo magari lo provavi ci battavo ci battavo te no però eh però te devi andare in safe la decina si no andare in safe così cazzo ah boh vai memoria questa non avevamo presente 3 si è vero morendo alla fine ma c'era un modo per c'era un posto dove vederlo no facendo pausa si pausa e poi i tasti lo so si su il tuo tasto non sa neanche i tasti perciò agli oggetti e no perché qua nel win lo so il win lo so è uguale controllati e no ma nel win in generale a me non si giochi e no ma nel win in generale e no ma nel win in generale e io ho fatto così però ho diventato buio proprio mentre stavo arrivando non so proprio dove andare lì spacca il coso e riesce poi con un segreto oh ti prego prendilo cristo quel coso adesso salta io andare avanti intanto abbiamo zero vita quindi è inutile questo ce lo puoi no no devi rotarizzare rotolarizza e lo uccidi congolo eh adesso eh scusa c'era di là è vero non abbiamo vite prendi delle banane rotolarizza e lo uccidi così ti butta giù madonna mia ma se tu salti sopra ti butta giù vai come te non ascoltate mai cazzo ma stai calmo adesso poca toia stai calmo stai calmo poca toia poca toia poca toia poca toia poca toia vai 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 andrà e rotolarizza ti butta giù mi fai a me ma non lo fai ma fallo fare a lui no ma non mi piace perché non so com'è mi sembra di parlare con uno con la swind perché non so come si fa ma non lo usa lui e lo rischiacci mi sembra di parlare con uno con la swind una persona casuale però se stai andando più safe ma adesso ma non mi è impossibile proprio ma adesso le abbiamo le ditte scaricando scaricando scaricate da internet ecco ne abbiamo una appunto ecco ne abbiamo due fai game over con lo zero perché non lo faccio di nuovo perché stavo non l'ho caricato ma scusate non l'ho detto la favolaccia ma scusa un attimo però adesso se prendiamo check point è inutile di nuovo e no se salviamo in mezzo no basta che carichiamo ogni volta ma proprio così ma perché non facciamo un passo di salvia vabbè però no no ma non così ma per mettere è un nemico tu ad albis non hai capito un cazzo come al solito abbiamo una vita ok prima non ce l'avevamo una vita erano zero erano zero adesso ne abbiamo una che genio uno meno zero fa zero no fa uno uno meno zero fa uno maestro in matematica però uno è uno se tu vuoi zero muori basta zero muori zero muori ma vero quello si oggi è mister ovvio la puntata hashtag ovvio 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 ma c'è arping ok come cominciamo a parlare ragazzi io sono agitata è agitata è come avere le mie cose solo che c'è una scimmia c'è una scimmia al posto delle altre cose nei pantaloni esatto è lì che si agita è lì che si agita la puttana negra non volevo dire c'è l'ha sto negra no no ho sbagliato non volevo dire perché il tema dell'altra della puntata era la negra non è vero era la negra in genere le puttane quelle sono state bruttissime negre vabbè quelli si può dire perché non offende nessuno vabbè perché ci segue una puttana negra oh scusami un saluto a tutte le puttane negre che ci seguono da casa di cuneo però di cuneo oh sono io puttana negra no ma che schifo oh 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 io sono grandissimi sono una puttana negra di cuneo e alza la gamba occhio alzare tu le tue gambe con lo smile con la gamba alzata sai cosa faccio se tu usi una gamba io alzo la gamba a mozzo madonna lei comunque vale anche per te quelli grossi si erotolarizzi lucidi stai zitto dalmi sporca troia veramente perché voi avete l'ego pazzesco questi due hanno un ego pazzesco non puoi un ego pazzesco non puoi dire cose devi farli dire in modo attraverso allora va bene se io all'occhio gli dice una figata morta il gioco è 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 morta non succede questa cosa però puoi vai devi saltare fermo eh ma come cazzo faccio a saperlo c'è uno che batte ssh la senti no 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 si me l'ha assolto per favore vado avanti piano aspetta qua si tolgono i cosi cosa fai dopo salta salta di nuovo no devo saltare con il buio così vedo devo saltare con il buio aspetta invece di tiro fallo madonna mia aspetta fermo easy easy ssh sento c c'è un eh madonna è difficile sto gioco occhio fermo l'ultimo mondo non lo facciamo no lanciano i bidoni cazzo continua a saltare salta memorizza memorizza vai vai rotolino vai occhio fermo occhio salta l'hai superato va bene va bene oh cazzo salta 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 vai fermo madonna così madonna n fermo aspetta 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 ok si ma cos'è ma peggio che tipo c'è un segreto un gioco di paura c'è una freccia si a me non ci interessa adesso peggio che un gioco di paura oh cazzo perché senti che suona il buio un dubbio vai vai cazzo vai a salvare anche onestamente me ne hai fatto un cazzo vai a salvare anche onestamente si perché così almeno hai 5 vite cioè ma lì avevo paura perché senti che suona il buio tipo la caccia una negra è ormai tanto le neve le battute le battute ma io faccio sempre i boss faccio i boss i boss sono l'unica cosa fattibile di sto gioco cazzo e scusate già è più piccolo oh cazzo è un bavile ma è vero e come facevi questo ma li ammazzi cosa esplode da solo e non dovrei fare qualcosa no voglio attaccarlo ma no cambiano tutti ma se fermo comunque li guarda i nemici perché non si vedono non si vedono sotto le banane ma sono un coglione aspetta va bene non ho giocavo le devi fammelo rifare vuoi farlo te o lo rifai rifare farlo rifare non mi sei entrato e non mi tirano i capelli non mi tirano i capelli lei porca troia ma se te li tagli vedi che nessuno te li tocca e no vabbè invece è vero che è bello così avendo i lunghi ma se io non ho tornato i capelli che ha i lock dei super fatti i capelli ma è vero che ha letto questo è fantastico l'occhio si è casuale che me lo chiedete di continuo e finalmente vi cuido tutte si boh basta tu sei dicendo guarda solo il segreto non puoi quelli non puoi bastardi stavo per dire un segreto senza senso o meglio non un segreto meglio non un segreto un non segreto adesso si esce adesso sono tutti puoi saltare in testa questo rotolo tranquillo ma lui è un po' della rotola di testa ma sei un coglione ma sembra perché non sai dove arriva ma in realtà lo sai che sei accumulamenti accumulamenti di ansia accumulamenti di ansia accumulamenti di ansia ma per favore è bello post dumb drum si chiama cinque vite easy che poi è lento sto barino sembra però sembra ma no è lento però non sai mai dove cazzo ti arriva ma mica sta perso però se hai il segreto del rotolamento hai capito bravo non puoi farlo se te lo dici ero non è facile sto posto sto posto non aveva proprio voglia di farlo ho detto ma si reciclami di pc normale e il gengivo è vero ho detto cosa facciamo mettiamo un barile che tipo no ma se siete pure delle stesse di cazzo ma a volte ti chiudi come un coglione guarda madonna ma puoi sempre andare a destra a sinistra e mettiti sotto a lì lo più facile oh cazzo eh vabbè ma metti uno guarda quelli come fai? uno bari l'altro e devi rotalizzare lì il segreto della rotalizzazione ma come al solito non bari ma fammi giocare stai gioca eh ma vedi già già lo autorizza bravo lo autorizza da fin dall'inizio adesso perchè non lo fa ricontino eh no c'è un frame in cui si recuperi ma proprio c'è un micro frame ce la recuperi se lo spammi lo fa sempre no 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 ce la recuperi sempre sai tipo un bricciolo di frame un bricciolo di flame di flame trap di flame trap lui li farei li faresti o li farei io lo capito io lo farei no ho capito se lo farei o lo fai te vabbè dai ma guarda che non so come faccio a farmi prendere dal barile cioè è vero? adesso come col barile io rido salta questi posso questi ingoio questi testi di cazzo ma veramente non è che il decay è ancora più sgravo in sto livello in combattimento sgravo sono tutti di gay no di gay eeeh perché non salta sto coglione lo scaricato lo scaricato d'albis è andato sul mulo insieme al porno gay ci ha messo anche un il porno gay me li mette l'occa non so se hai già visto la puntata si l'ha già vista l'ha già vista non so perché Taze l'ho guardato in tanti ma anche di che l'ho guardato in tanti si ma infatti guardate anche Taze o se ti fa prendere da un barile giuro che tua mamma ti viene a prendere ma non ti viene a prendere ma non ti viene a prendere si ho capito ti ho detto che l'ho scaricato l'ha scaricato? ma salta chill out stai tranquillo chill out chill out bitch che bella ma sempre in mezzo no 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 buggy diglielo lì non puoi votare lì e stai tranquillo ma vedi che c'è un pigio è perché è lento lui poi ando via a donkey kong donkey kong adesso è più difficile con sto qua ma ha rotolato l'alizzo guarda qua no ma di continuo no di continuo ho capito c'è un frame quel micro frame no no l'ho calcolato oh i boss una cazzata comunque e beh questo è l'unico che non è un boss neanche non è un boss è un ammasso di nemici cioè cosa dovrebbe significare sto bidone anche qua c'è un segreto un segreto c'è una banana su no perché è il mondo dei tossici il mondo dei tossici c'è una seringa allora c'è no perché il mare era tossico il mare era tossico anche stai ballando nello sole tutti insieme dentro i tossici dentro il barile sono sti tossici comunque eh si vedi che con la con la xfam due noce gravemente alla saldo e poi ti tracca la cosa che stai fermo ma a dirmi no muoio cos'è questo muoio muoio come vuoi? è proprio facile il bidone sembra ma non è ovvio sembra ma è bello che noi ci mettiamo sempre negli angoli più difficili e si è tanto più forte perchè lì il piccolo... si autodistrugge un giocapunto e vinci una banana tossica e no infatti ci vuole dire che non mi toccare le mani aspetta, aspetta un attimo the last worldless perchè il Wii io non ci gioco più ecco, adesso corri di sotto corri, corri, non ti fai cazzatini no ma Gigi diciamo come si fai videogiochi da 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 non vi preoccupate, torniamo fra un secondo fra un secondo